Oggi è una bellissima giornata a San Lorenzo, una giornata piena di gente, piena di persone, piena di voglia per gli abitanti di San Lorenzo di vedere proprio San Lorenzo vivo. Infatti in questi giorni abbiamo lavorato tanto, hanno lavorato tanto le nostre associazioni, hanno lavorato i nostri commercianti per rendere San Lorenzo accogliente per questo bagno di folla che oggi abbiamo qui. Sì, quindi siamo veramente contenti, ci hanno sempre parlato tutti di questo giro, di questa partenza del giro che portava sicuramente tantissima gente ma noi immaginavamo veramente di vedere tutte queste persone e tutta questa festa perché poi è vero che ci sono tante persone ma è proprio la atmosfera di festa che è bella, sono tutti contenti e quindi siamo felicissimi anche noi. Un grazie di cuore va ad Area 24 per aver portato proprio la partenza di questo giro qui a San Lorenzo e quindi alla regione Liguria perché comunque se non fosse stata la regione Liguria che avesse finanziato, diciamo così, e non avesse programmato i lavori della pista non l'avremmo avuti. Quindi un grazie di cuore a tutti.